ciao a tutti da simone buonasera benvenuto o benvenuta nel gruppo coaching italia piccolo video prima della lezione di stasera alle 21 e 15 nel corso di coaching resonance vediamo se si arriva qualcuno il gruppo questo è anche un modo per per sperimentare quanto facebook faccia vedere i video alle persone che sono nel gruppo vediamo se arriva qualcuno benvenuto non so che tu sia perché non vedo non vedo chi sei allora alle 9 di stasera le 9 e un quarto stasera ci sarà la lezione la lezione del corso resonance nel corso privato online ovviamente stasera parleremo di un tema che io ritengo davvero interessante cioè all'interno di un percorso di trasformazione personale all'interno di un percorso di coaching quando siamo chiamati a coadiuvare a facilitare a generare un cambiamento come si fa a farlo quando la persona ha fretta quando sente l'urgenza quando quando ha proprio questa questa ansia tra virgolette di di ottenere il risultato prima possibile perché se no succedono delle cose e viene da noi viene o all'interno del nostro team della nostra no del nostro gruppo di lavoro cerca il nostro aiuto per andare avanti più veloce per sbloccare le situazioni il punto è che noi sappiamo bene che non è possibile o quanto più la persona è nella fretta quanto più la persona è alla ricerca della velocità tanto più si sta impedendo di di potersi aprire di poter sbocciare di potersi trasformare in ciò che è possibile per lei però ovviamente se gli diciamo non avere fretta questa cosa genera ancora più frustrazione e più e più ansia di risultato e più volontà di andare veloce la storia del ciao gabrile intanto la storia del maestro che si vede arrivare il maestro di arti marziali che si vede arrivare lo studente che gli chiede maestro se studio con te se decide studiare con te quanto tempo mi ci vorrà per diventare per diventare cintura nera e il maestro gli dice lo guarda gli dice ci vorranno dieci anni lo studente è affranto e va lì e gli dice ma se io studio studio e mi do da fare mi darò da fare dalla mattina alla sera e studierò anche la notte e farò tutto quello che serve quanto ci vorrà il maestro gli dice ci vorranno quindici anni e lo studente gli chiede ancora ma se io davvero do tutto rinuncerò a tutto il resto non farò nient'altro che allenarmi con te studiare con te quanto ci vorrà il maestro gli dice ci vorranno vent'anni ed è esattamente così che funziona quando lavoriamo da una prospettiva di ansia di risultato in realtà siamo bloccando stiamo rallentando le nostre performance il punto è che non basta dire non avere ansia del risultato non persona non avere obiettivi non avere non avere questa fretta di ottenere allora la domanda è come facciamo a lavorare con una persona che ha questo tipo di approccio come facciamo a anche se non facciamo i coach ma siamo dei facilitatori di cambiamento di trasformazione a generare questo tipo di risultato spontaneo nelle persone togliendole dalla ansia del risultato e allo stesso tempo dandogli una direzione di movimento come facciamo a farlo per noi stessi come facciamo a star fermi aspettare in maniera non passiva non come dire non che subisce ma in maniera attiva l'attesa attiva aspettando che sia il momento giusto aspettando di maturare come il seme sotto sotto la terra aspettare generando in quel momento una trasformazione uno sbocciare qualcosa che deve succedere rimanendo consapevoli che stiamo allo stesso tempo facendo delle cose queste non sono teorie non è filosofia è come facciamo a lavorare con le persone a metterle in grado di ottenere più risultati possibili per loro a generare performance migliori tirandole via dalla voglia di tutto e subito che è l'approccio tipico seguito anche inconsapevolmente da tutti dalle persone processori più veloce memoria più veloci risultati più veloci macchine più veloce eccetera 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 la natura umana la natura umana che genera performance non funziona così non siamo delle macchine per essere veloci dobbiamo imparare imparare ad andare più piano che non vuol dire non è una cosa negativa imparare ad andare più piano e a costruire una struttura a lavorare sulla nostra struttura beh stasera sono temi io credo che siano temi molto molto interessanti perché riguardano la performance riguardano la capacità di funzionare bene di essere autentici di essere noi stessi e di essere attivi nel mondo intorno a noi e ne parliamo stasera nella lezione del corso di coaching resonance puoi iscriverti quando vuoi ne parliamo soprattutto dal 4 al 10 aprile a Manerba del Garda per la settimana intensiva c'è ancora posto mancano 17 giorni e niente ti saluto per chi sarà nel corso stasera o a Manerba ci vediamo fra pochissimo e un abbraccio a tutti un abbraccio ciao